In questa operazione stiamo legando i rami ai cavi d'acciaio della struttura Y. Questo qua permette che i rami si vengono fissati e che non vengono mossi dal vento e soprattutto stiamo creando un cono d'ombra che proteggerà i frutti dall'irradazione diretta dal sole e quindi dalla possibile bruciatura. La bruciatura dei frutti comporta la perita delle caratteristiche organolettiche e caratterizzano ogni singola varietà alla perita del colore rosso nel ritardo della maturazione.